Questa è un'occasione molto speciale per la scuola, dopo le aspettative spesso frustrate e disattesse degli ultimi mesi. Dal febbraio del 2020, con l'esplosione della pandemia fino ad oggi, questa è la prima cerimonia istituzionale che la scuola organizza, almeno in parte in presenza, e siamo particolarmente contenti che questo avvenga proprio per festeggiare assieme la conclusione del vostro percorso qui normale. La normale arriva alla fine di una lunga filiera educativa e forse il lavoro più grande, il merito più grande in questa filiera ce l'hanno le vostre famiglie. Per questo voglio salutare, anche se purtroppo non possono essere presenti in questa sala, con grande calore tutti i vostri familiari e in particolare quelli che comunque hanno voluto raggiungere Pisa oggi. Se possiamo celebrare un risultato così importante, come ho già detto, il merito va anche a loro. Sono stati messi difficili per tutti, per il Paese, per la scuola, per voi, per le vostre famiglie e anche per questo motivo ritrovarci qui insieme, pur con alcune limitazioni, a un sapore e un'emozione speciale che immagino tutti condividiate. Come già ricordavo, nella vita della scuola, anche per le sue ridotte dimensioni, i momenti davvero importanti sono due, quando accogliamo nuovi allievi e quando salutiamo quelli che partono per nuove avventure. Da adesso la scuola fa della selezione e della formazione i suoi due punti di forza principali. Lo statuto ci dà il compito di cercare, individuare e coltivare il talento. Ogni giorno, come ci viene pubblicamente riconosciuto, la scuola lo alimenta con un investimento che non appare in Italia e in Europa. Oggi insieme a voi celebriamo appunto lo sforzo, l'impegno e il lavoro di cinque anni intensi che avete dedicato alla vostra formazione. Un investimento, poi di questo avremo anche modo di parlare più avanti, per il vostro futuro, ma anche il più possibile per il futuro del nostro Paese. L'esperienza della normale, e ve lo dice un normalista, è per la formazione umana, culturale, scientifica veramente peculiare. E devo dire che la percezione della sua importanza, certo si apprezza immediatamente, ma vi assicuro anche per esperienza personale, cresce nel tempo anche a distanza di anni. Il contatto costante con un gruppo altamente selezionato di pari, la partecipazione alla vita di una comunità variegata e anche molto vivace, la precisione con cui si impara a indirizzare la propria creatività, la serenità di un ambiente, la serietà di un ambiente che proietta molto spesso nel mondo adulto, nel mondo della ricerca, tutte queste sono componenti ineliminabili della scuola e credo è una possibilità rara per giovani diciottenni. Il corso ordinario, che è un istituto così strano e originale, è un tesoro prezioso della scuola, che faremo del nostro meglio per mantenere e far crescere, con un'attenzione particolare agli aspetti interdisciplinari e multidisciplinari e all'impatto sociale delle scelte. Sappiamo naturalmente che è necessario un adeguamento ai tempi e personalmente io avverto molto questa tensione tra questa esigenza di innovazione e il mantenimento, che considero però necessario, dei tratti fondamentali della scuola, che la caratterizzano anche tra le istituzioni, anche tra le altre istituzioni di eccellenza. Nello sviluppo di questi temi faremo naturalmente tesoro anche delle vostre indicazioni. A noi tutti spetta la responsabilità di creare tutte le condizioni per costruire percorsi che educhino i normalisti a rigore disciplinare, ma non neghino loro la possibilità di un'esplorazione creativa e anzi sappiamo trarre il massimo valore dai percorsi più variegati. Agli allievi e alle allieve vogliamo dare sempre più opportunità di dialogo con il tessuto sociale e civile che li circondano per portare il loro talento anche fuori dalle mura strettamente accademiche. Vogliamo favorire un loro sempre più attivo coinvolgimento nella terza missione delle università, che non è un appendice superflua delle due missioni tradizionali didattica e ricerca, come il termine terza potrebbe far credere, ma sempre più parte integrante e costitutiva della loro identità e della loro valutazione da parte di chi le università poi le finanzia. Naturalmente una delle ragioni per cui questa cerimonia è sempre così emozionante è che arriva in un punto particolare del cammino dei nostri allievi. Quando siete arrivati alla scuola eravate studenti e studentesse appena usciti al liceo, avevate da poco raggiunto la maggior età, eravate forse molti di voi alla prima esperienza significativa lontano da casa. Dopo cinque anni molti di voi hanno già fatto esperienze più o meno lunghe in centri di ricerca in Italia e all'estero, siete ormai giovani studiosi e studiosi maturi, molto competitivi, pronti a portare il vostro contributo in qualunque settore vogliate. Questa giornata sancisce, come dire, formalmente e simbolicamente questo passaggio. Il vostro, vi dicevo, è stato e sarà un cammino e non solo in senso metaforico. Quando siete arrivati a Pisa, alla normale, ognuno di voi ha fatto un viaggio e ora dovremmo vedere, ecco, la slide tradizionale che illustra un po' la vostra provenienza. Questa cartina ci mostra che la scuola normale è davvero un'istituzione nazionale, che serve tutto il Paese, però nei prossimi anni ci aspetta una vita, una sfida difficile. La competizione per il reclutamento a tutti i livelli del percorso formativo, reclutamento dei migliori talenti, è sempre più serrata e le cronache ci consegnano un Paese molto diviso tra Nord e Sud, come emerge anche in parte da quella cartina, nelle competenze e nelle conoscenze dei suoi studenti, pur naturalmente con punte di eccellenza in tutto il territorio. Di straordinaria attualità è tornato il tema della mobilità sociale, associato a quello della promozione del merito, del gender gap, oltre che assicurare la provenienza da tutta Italia e dai grandi centri come dalle piccole località. La scuola deve continuare a essere il luogo per permettere la libera scelta dello studio e della ricerca a tutti nel rispetto del principio meritocratico. Per questo è fondamentale che la scuola non si limiti a declamare slogan, ma pur con le sue limitate forze promuova politiche efficaci. In questo abbiamo imparato sul campo, per così dire, che cruciale sarà la collaborazione con le scuole, in particolare con le scuole superiori di tutta Italia. Paradossalmente, proprio con la pandemia, nell'epoca che ha fatto del distanziamento una delle parole chiave, la scuola normale ha rafforzato il resto più capillare, diretto e diffuso il rapporto con centinaia di scuole e migliaia di insegnanti, che con oltre 40 anni di esperienza di orientamento avevamo iniziato a costruire. Il progetto della normale a scuola, con centinaia di lezioni virtuali in diretta di docenti, ricercatori e ricercatrici della scuola, verso le scuole di tutta Italia e anche verso scuole italiane all'estero, ci ha consentito, è cresciuto rispetto al 2020, alla prima esperienza del 2020, e ci ha consentito quest'anno di raggiungere una frazione veramente significativa del corpo studentesco a livello nazionale. Questo può essere il punto di partenza, spero irreversibile, di una nuova fase nella storia della scuola normale, che da un lato ha recuperato il suo ruolo storico, iniziale, di faro nel sistema formativo italiano e dall'altro acquisito una rete di contatti di grande valore, che potranno essere appunto lo strumento per il monitoraggio e per incidere in modo veramente capillare su queste attività in futuro. Questa rete, con gli strumenti, anche i fondi che verranno messi a disposizione dal Programma Nazionale di Resistenza e Resilienza, per le politiche, fondi specifici, per le politiche di orientamento e per la valorizzazione delle carriere femminili, potrebbero veramente contribuire a un cambio di tendenza. Il viaggio di molti di voi, dopo cinque anni, è ripreso. La mappa che ora vediamo, ecco, è una mappa quindi ora a livello europeo, essenzialmente europeo, è una mappa bella o brutta a seconda dei punti di vista, che comunque ispira molte riflessioni. Dopo il corso ordinario alcuni di voi hanno deciso di lasciare l'Accademia e abbiamo tante storie vicine e lontane nel tempo, che mostrano quanto importante sia il contributo dei normalisti anche fuori dai circuiti accademici. Altri hanno deciso di restare in normale e ve ne siamo molto grati. Altri ancora hanno scelto e sono stati accolti con gioia in nuove istituzioni, spesso tra le più prestigiose, Oxford, come poi emerge dalla mappa, Berlino, Monaco, Losanna, Zurigo, Vienna, Friburgo, anche fuori dall'Europa, New York. Questo ci riempie di gioia e di orgoglio perché premia anche la formazione che si impartisce qui. Nonostante le sue ridotte dimensioni, la normale è da sempre costante e naturale interlocutore dei più importanti centri di ricerca al mondo. Naturalmente vedere tanti puntini luminosi, tanti puntini segnati, lontani dall'Italia, certamente ci deve far riflettere sul deficit in termini di competitività e attrattività, in particolare direi a livello appunto post laurea, post dottorale del nostro sistema universitario. Sono amare considerazioni che sono già state svolte varie volte, non solo da me, anche da chi mi ha proceduto e quindi qui non mi ripeto. Oggi vorrei vederne solo un lato positivo, come ho sottolineato tra l'altro esattamente un mese fa, il 9 giugno, in un incontro appunto che abbiamo organizzato su carriere e migrazione e la ricerca a cui ha partecipato la Ministra Messa. Cioè che i migliori e le migliori d'Italia possano completare la loro formazione all'estero è non solo sacrosanto ma anche fondamentale per costruire una comunità globale di ricercatori che valorizza e questo ve lo ripeto, ve lo assicuro anche per esperienza personale, valorizza anche chi ha deciso di restare in Italia. In un periodo in cui si parla molto di programma nazionale appunto di ripresa e appunto di resilienza e di investimenti su formazione e ricerca ma anche di cambiamenti normativi che ritengo altrettanto necessari oltre agli investimenti, il mio auspicio è che grazie a queste promesse innovazioni chi di voi oggi all'estero possa o voglia un giorno rientrare in Italia per il bene del nostro sistema paese. Comunque vadano le cose, io sono tuttavia certo che tutti voi troverete la strada migliore per mettere a frutto le vostre capacità. La normale vive e lasciatemi aggiungere anche dovrebbe essere valutata sulla base dei successi dei suoi allievi e delle sue allieve anche a distanza di anni. Uno degli obiettivi portanti del piano programmatico di sviluppo del mio mandato, come sapete, è proprio riguardo il rafforzamento del network degli alunni e il monitoraggio più preciso e più spalmato nel tempo delle loro carriere. Stiamo lavorando molto su questo fronte e nei prossimi mesi, in vista anche dell'inaugurazione dell'anno accademico, presenteremo uno strumento attraverso il quale ci proponiamo proprio di rivitalizzare i rapporti con gli ex allievi e le ex allieve che lavorano in un'accademia e anche in contesti extra accademici. Si tratta certamente del nostro patrimonio più prezioso, da cui non potremo che imparare cose nuove e stimolanti per progettare il nuovo futuro. E naturalmente aspettiamo da loro, ma anche da voi che, come dire, siete appena usciti, importanti proposte e suggerimenti. Ecco, permettetemi di salutarvi in chiusura con alcune parole del mio maestro Ennio De Giorgi. Un messaggio per voi, ma spero anche per chi un giorno collaborerà con voi o sta già collaborando con voi. Ennio De Giorgi, in un'intervista, in realtà appunto riprendeva questo messaggio in varie occasioni, disse, il sogno è necessario alla scienza. Del resto Shakespeare diceva che ci sono più cose in cielo e in terra di quante ne sogni la tua filosofia. Non si sogna mai abbastanza, perché tra le cose sognate ci sia anche tutto quello che c'è nell'universo. La capacità di sognare mi sembra decisamente necessaria alla scienza. Questo era un insegnamento che De Giorgi praticava effettivamente, non si limitava a, come dire, a declamarlo, nella sua esperienza di docente e di ricercatore. E io penso che possa essere efficacemente declinato e interpretato in tanti ambiti, in tutti i cambi del sapere e non solo in ambito accademico. Quindi il mio augurio nei vostri confronti è che con questo spirito, questa combinazione di sogno e di giuste ambizioni, vi accompagni in tutto il vostro percorso. Grazie. Bene, ora diamo la parola a Marilu, alla professoressa Marilu Chiofalo, presidente dell'associazione che ci parlerà, ci rivolgerà un saluto anche a nome dell'associazione Normalisti. Grazie Marilu. Grazie direttore, grazie Luigi. È davvero un piacere e un onore essere qui oggi in questo momento così importante della vostra vita, cari ragazzi e cari ragazzi, in rappresentanza dell'associazione Normalisti e del suo presidente Roberto Cerreto, che non poteva essere qui a rivolgere questo saluto e che io con molta gioia farò. Ringrazio il direttore e la scuola per aver dato la possibilità all'associazione di dividere con voi ed essere con voi in questo momento di gioia e gioire dei vostri successi e anche averci dato la possibilità di essere con voi in questo momento per soffiare sulle ali dei vostri sogni, per supportare il volo che da questo momento in poi continuerà a portarvi, come noi ci auguriamo e come auspicava anche il direttore, molto lontano. Sono stati anni molto importanti per voi, per la formazione, come sempre accade alla scuola e gli ultimi anni sono stati ancora più importanti, per cui per voi questo è un momento di passaggio, non soltanto, ma anche in un momento in cui la comunità mondiale attraversa la crisi che ci è stata insegnata in qualche modo dalla pandemia e che se non eravamo in grado di farlo prima adesso ci obbliga a capire bene come dice la parola stessa etimologicamente, crisi, decidere cosa lasciare nel passato che discernere che non ci è particolarmente importante e cosa portare con noi nel futuro. Voi sapete molto bene cosa portare nel vostro futuro, gli anni di impegno che vi hanno consentito di approfondire e di rendere eccezionali le vostre conoscenze disciplinari, ma sappiamo bene e questo lo ricordava anche il direttore, si potrebbe avere delle molto profonde conoscenze disciplinari, ma senza la creatività e senza l'intuizione, è chiaro che tutti noi potremmo forse un giorno essere sostituiti da computer particolarmente potenti, quindi non è soltanto questo che avete appreso alla scuola, ma è soprattutto la capacità di guardare oltre di guardare con creatività e anche la capacità di sentire tra un'enorme quantità di informazioni che sono quelle che ci vengono messe a disposizione dal mondo globale. E non è nemmeno soltanto questo che sarebbe già tantissimo, il punto è che queste profonde conoscenze disciplinari, la capacità di creatività, la capacità di sintesi, niente sarebbero se non fossero accompagnate come l'ambiente della scuola ci insegna a rivolgere queste capacità ad un bene comune, quindi guardando a ciò che ci attende e ciò che dobbiamo fare con un senso di etica e di rispetto per tutte e per tutti. Sono queste le tante straordinarie cose che voi potete portare nel vostro futuro, che sarà certamente un futuro disseminato di grandi successi e sarà un futuro che come tutte le persone che si sono formate alla scuola vi porterà in un modo o nell'altro a guidare una parte dell'umanità in una delle sue funzioni più importanti. E voi saprete fare questo rimanendo fedeli ai valori con i quali siete cresciuti nella scuola e anche rimanendo aderenti a voi stessi e a voi stessi. Lo dico soprattutto alle tante ragazze che oggi si acquisiranno formalmente, perché questo è già avvenuto, il diploma, perché per le ragazze, per noi donne, è a volte un po' più difficile rimanere aderenti a noi stesse in questo percorso e in questa funzione che siamo chiamate e poi siamo chiamati tutti a svolgere per la comunità. Ecco, io oggi non posso essere con voi, davvero me ne dolgo perché, come diceva il direttore, è una delle prime, se non la prima, occasione di nuovo in presenza alla scuola. Sono qui immersa nella bellezza della natura, nell'intento con due colleghe in quello che potremmo chiamare un non workshop per scrivere su un foglio bianco con pennarelli colorati, letteralmente, eccoli qua, il futuro che noi sogniamo per la nostra ricerca, attività di ricerca e di divulgazione scientifica per i prossimi 10-20 anni. Ecco, l'invito che vi rivolgo è a non dimenticarvi di rimanere immersi nella bellezza e di farvi ispirare dalla bellezza, che anche soltanto in quelle scalinate stupende della scuola che ricorderemo sempre tutti e che ci fanno vedere sulla nostra destra, sulla nostra sinistra, la bellissima facciata del Vasari. Ecco, non dimenticate di rimanere immersi nella bellezza e di fare ispirare dalla bellezza i vostri sogni per il futuro. Vi auguro ogni successo e rispetto a tutto questo l'associazione per voi sarà sempre una casa alla quale poter tornare dopo essere, avere vissuto e esservi sparsi come sta già accadendo in tutto il paese e in tutto il mondo. Buona vita! Grazie Marilu, allora adesso abbiamo un piccolo momento di spostamento, chiedo agli allievi della classe di scienze di spostarsi temporaneamente in, dunque, in sala, sala 6. Grazie, c'è una piccola prossima. 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 Buongiorno a tutte e a tutti. questo è un giorno di festa e stavolta è anche una festa doppia. è una festa per la celebrazione di un rito, come ogni anno il riconoscimento al vostro merito. e questa è una, come sempre, è una cerimonia per chi ha completato appunto con onore il proprio percorso di allievo della scuola e dunque ha corrisposta e dunque ha corrisposto alle aspettative che su di lui erano state riposte. Ma quest'anno è una piccola prossima, ma quest'anno è una piccola prossima. Ma quest'anno è una festa anche e soprattutto per il ritrovarci finalmente al di fuori delle restrizioni, almeno le più severe, dettate dalla pandemia. E' ancora questo un incontro condizionato, ma che suona già come una liberazione o comunque la annuncia come prossima e noi in questa prospettiva lo vogliamo vivere come un primo segno di un lungamente atteso ritorno alla normalità. La prima cosa che ritengo doveroso fare, a nome della classe di lettere, è rivolgere un ringraziamento a chi ci ha permesso di compiere questa lunga e dolorosa traversata. Ci ha anzi guidato con prudenza e senso di responsabilità, assumendo in situazioni di emergenza decisioni difficili e che non sempre sono state correttamente comprese o apprezzate durante una navigazione travagliata ed esposta a molti rischi. Credo quindi che alla fine, se non dell'intero viaggio, almeno di questa lunga tappa, si debbano ringraziare anzitutto il direttore, il vice direttore e l'intero gruppo, l'unità di crisi deputata a far fronte all'emergenza pandemica. La scuola normale ha saputo rispondere a questa grave crisi che la dispersione fisica dei singoli soggetti rischiava di tradurre anche in un parallelo allentamento dei rapporti e del senso di coesione dell'intera comunità della scuola. Ha saputo rispondere, dicevo, cementando anzi il senso di appartenenza all'istituzione, emblematica e altamente meritoria in questo senso, la risposta è antidoto a questo rischio che ha offerto l'iniziativa che già il direttore ha richiamato della normale a scuola, che grazie alla collaborazione di tanti colleghi docenti ha saputo raggiungere un numero impressionante di studenti e insegnanti disseminati nelle scuole superiori di tutte le regioni italiane, realizzando così un obiettivo primario della missione della scuola normale, la produzione e diffusione di cultura a beneficio delle giovani generazioni, i cittadini del domani e quindi dell'intero Paese. Un'iniziativa di alto profilo culturale e civile al quale la classe di lettere ha dato un contributo sostanziale e di questo ringrazio sentitamente i colleghi. La classe di lettere di cui mi accingo a lasciare tra pochi mesi la Presidenza ha vissuto, non lo nascondo, nelle ultime settimane, ma per voi ne siete rimasti immuni appunto, certamente anche per effetto del disagio prodotto e alimentato dalla perdurante situazione pandemica, ha vissuto, dicevo, episodi di tensione e di latente conflittualità tra alcune sue componenti, episodi che hanno minato il clima di necessaria armonia e spirito di collaborazione, che è il requisito indispensabile per svolgere al meglio ognuno per la propria parte il compito, il nostro compito nella vita della scuola. Ma voglio sperare che anche su questo terreno oggi possa segnare un nuovo inizio, e cioè che ogni componente della classe recuperi il senso del proprio ruolo e delle prerogative ad esso connesse il rispetto dei diritti e dei doveri che ad ognuno dei ruoli compete, senza indebiti sconfinamenti di campo, e che questa generale assunzione di responsabilità comporti la ripresa di quell'armonia e serenità di cui la nostra comunità non può fare a meno. Ma torniamo all'aspetto più piacevole della giornata di oggi. È una festa per tutti noi che siamo contenti di vedervi così numerosi qui, vuol dire in fondo che avevamo scelto bene noi docenti quando vi abbiamo selezionato, ma è una festa soprattutto per voi che avete tenuto fede all'impegno preso quando noi vi abbiamo selezionato e completate felicemente questa prima tappa del vostro percorso di formazione. Ora vi attende un futuro diverso e più impegnativo che sarà una nuova sfida per le vostre ambizioni, per i vostri sogni, o ancora qui nel ciclo di perfezionamento dottorato presso la scuola o in altre università italiane o straniere, oppure alcuni già sulla strada di qualche professione, o altri ancora che saranno all'estero, in università, istituti di ricerca o aziende nel mondo. Ovunque sarete, porterete con voi il bagaglio che noi abbiamo cercato di fornirvi, cioè la strumentazione intellettuale, ma oserei dire anche etica, che in questi anni vi siete costruiti e che sarà la vostra forza, la vostra chiave per affrontare il futuro, un futuro di successo legittimo nel campo, nello studio, nelle professioni che avete scelto, ma anche per il vostro futuro di cittadini maturi e responsabili, dotati di quella capacità di giudizio e di attitudine critica che noi abbiamo cercato di trasmettervi in queste aule, ma che è l'atteggiamento sicuramente migliore per affrontare anche la vita civile, per esercitare al meglio il ruolo di cittadini consapevoli delle proprie responsabilità. In un mondo dominato dalla logica brutale della semplificazione, o piuttosto del semplicismo, dalla rozzezza intellettuale del mi piace, non mi piace, voi portate la vostra capacità di un pensiero fine, articolato, elaborato criticamente, quello che sa distinguere e che fa appello alle ragioni dell'intelletto. L'esercizio della palestra intellettuale che qui avete appreso e che è il vostro acquisto per sempre, trasferitelo anche come stile intellettuale negli altri campi della vita che attraverserete. Realizzerete così nei fatti il motto che amiamo sempre richiamare, che ci ha lasciato il Presidente Ciampi, seme il normalista sempre normalista, cioè chi è stato normalista una volta lo sarà sempre, e sarà questo recupero un contributo prezioso che darete al miglioramento e alla crescita civile di questo Paese. Qui avete imparato un metodo di lavoro che vi sarà utile, qualunque destino il futuro vi riservi, nella vita professionale, ma anche avete imparato un'attitudine etica, come dice appunto Ciampi, no alle scorciatoie e alle furbizie, sì al rigore e al merito, e questo rappresenta la matrice che vi accomuna ai vostri compagni di formazione che hanno acquisito questo marchio, questo tratto distintivo che è appunto uno stile di pensiero ma anche di vita e che garantisce il permanere di quella naturale solidarietà, quasi un immediato riconoscersi tra uguali appunto tra gli ex normalisti nel mondo e nel corso della vita. A quelli di voi che hanno deciso di proseguire il loro percorso di formazione o di vita all'estero, auguro di tornare presto tra noi, forti dell'esperienza di cui vi sarete arricchiti, perché il Paese di voi ha bisogno, ha bisogno della meglio gioventù su cui ha giustamente investito risorse e speranze e che non deve abbandonare al suo destino, ma valorizzare nell'interesse di tutti, facendo sì che la soddisfazione e il riconoscimento del talento individuale si traduca anche nel vantaggio dell'intera collettività, come in un Paese sano dovrebbe accadere. Mentre nel nostro, ahimè, vediamo troppo spesso che il dilettantismo, direi il pressappochismo, rivendicato come un vanto, nel nome magari di una malintesa ribellione contro le élite, le élite anche, forse e soprattutto quelle del sapere, ecco, questa resistenza diciamo al rischio che molto spesso in cui molto spesso incorriamo io spero che ispiri il vostro futuro immediato e lontano. È questo l'augurio che a nome mio personale della classe di lettere e filosofia tutta io faccio a voi, alle vostre famiglie e ai vostri cari. Buona fortuna. Buongiorno a tutte le persone presenti in ogni forma possibile a questa cerimonia così particolare. Scrivere queste parole non è stato facile. Dare un'unica forma alle singole esperienze è stato il nostro obiettivo irraggiungibile, per noi continuamente in bilico tra un profondo affetto e una necessaria analisi del reale. Dopo un confronto durato mesi, se non anni, vorremmo provare oggi a riassumere le contraddizioni che sentiamo quando pensiamo a dove siamo ora, a come stiamo ora. Riconosciamo che dobbiamo ai nostri anni alla scuola gran parte di ciò che abbiamo raggiunto. Senza coloro che abbiamo conosciuto, senza ciò che ci è stato insegnato e ciò che abbiamo imparato, certamente saremmo adesso persone molto diverse. Il presupposto fondamentale di queste parole è una profonda gratitudine verso ogni componente della scuola. Il nostro ringraziamento esplicito va non solo al corpo docente, ma anche per la presenza costante e l'aiuto concreto al personale tecnico-amministrativo, alle addette e agli addetti alle aule, alla portineria, al personale dei collegi, alle lavoratrici e ai lavoratori di mensa e biblioteca. Proprio perché la scuola ha significato così tanto per noi, vorremmo oggi provare a spiegare come mai, quando guardiamo noi stessi o quando ci guardiamo intorno, c'è difficile vivere questo momento di celebrazione senza condividere con voi alcune preoccupazioni. Crediamo che sia oggi necessario cominciare descrivendo il contesto lavorativo, sociale e culturale in cui gran parte di noi è ormai inserita. Contesto che negli ultimi 13 anni è stato investito da cambiamenti profondi. Questi cambiamenti, crediamo, la scuola normale non li ha semplicemente subiti, ma ha purtroppo contribuito a legittimarli. In termini generali ci riferiamo al processo di trasformazione dell'università in senso neoliberale. Con questa espressione intendiamo un'università azienda in cui l'indirizzo della ricerca scientifica segue la logica del profitto, in cui la divisione del lavoro scientifico è orientata a una produzione standardizzata misurata in termini puramente quantitativi. un'università in cui lo sfruttamento della forza lavoro si esprime attraverso la precarizzazione sistemica è crescente, in cui le disuguaglianze sono inasprite da un sistema concorrenziale che premia i più forti e punisce i più deboli, aumentando i divari sociali e territoriali. Questa, che è una tendenza internazionale, si declina in Italia in maniera particolarmente violenta, accompagnandosi al drastico ridimensionamento dell'università pubblica. Vale la pena citare qualche dato. L'Italia spende lo 0,3% del PIL nell'istruzione terziaria, contro lo 0,7% della media europea. Nell'ultimo decennio la spesa pubblica per la ricerca è stata tagliata di un quinto. Nel frattempo, le iscrizioni alle università sono scese del 9,6% e nel 2020 la popolazione tra i 25 e i 34 anni con istruzione terziaria in Italia si aggirava intorno al 29%, contro il 41% della media europea. Ma i dati sul personale sono ancora più significativi. Dal 2007 al 2018 le borse di dottorato bandite dalle università italiane sono diminuite del 43%, del 56% al sud. Tra il 2008 e il 2020 nelle università statali i ricercatori sono diminuiti del 14% e le recenti e parziali stabilizzazioni non sono che una goccia nell'oceano, dato che bene il 91% degli assegnisti di ricerca si vedrà escluso dall'università italiana. Il personale a tempo determinato è ormai ben maggiore del personale a tempo indeterminato e inoltre nel personale precario le donne sono sovrarrappresentate. Le disuguaglianze sono dunque stridenti il divario di genere, il divario territoriale tra nord e sud e non da ultimo il divario tra i poli di eccellenza ultrafinanziati e la gran parte degli Atenei, determinato dalla diminuzione dei fondi strutturali e dall'aumento delle quote premiali. Lo abbiamo visto con l'istituzione dei dipartimenti di eccellenza che in questo quadro non può che apparire odiosa e insensata. Faccio riflettere un ultimo dato. Mentre, come abbiamo detto, docenti e ricercatori diminuivano nel complesso degli Atenei italiani, questi aumentavano del 40% nelle scuole superiori come la normale. In questo contesto, noi, i cosiddetti eccellenti, siamo certamente quelli fortunati. Ma quale eccellenza tra queste macerie? Che valore ha la retorica dell'eccellenza se fuori da questa cattedrale nel deserto ci aspetta il contesto desolante che abbiamo descritto? Noi crediamo che di fronte a tutto questo la scuola non sia senza colpe. Ha infatti promosso quella retorica dell'eccellenza e della meritocrazia che legittima il taglio delle risorse. Ha incoraggiato la creazione di piccoli poli di eccellenza iperfinanziati, lasciando invece in secondo piano i rapporti con l'Ateneo che più ci sta vicino e con cui più sarebbe opportuno collaborare, l'Università di Pisa. Ci riferiamo qui a quello che fu il paradossale impegno nel progetto della normale meridionale. Ma ancora, la scuola ha perseguito la deregolamentazione delle condizioni contrattuali del personale esternalizzato di mensa e biblioteca e sembra ormai aver rinunciato da anni a una presa di posizione esplicita nel dibattito pubblico. Questo silenzio è stato condiviso anche dalla maggioranza del corpo docente, l'impegno civico è passato in secondo piano rispetto alla produzione scientifica. Perché l'impegno nel dibattito pubblico, lo schierarsi apertamente a favore o contro precise scelte politiche è considerato una macchia di cui l'accademico di oggi non deve sporcarsi. Questa disabitudine all'impegno che sempre di più ci viene insegnata è pericolosa. Mentre esitiamo esporci e guardiamo con pessimismo all'esito di ogni nostra eventuale battaglia, ci chiediamo invece quanta forza in più avrebbe avuto la nostra voce se fosse stata accompagnata e sostenuta da quella delle nostre e dei nostri docenti. Inoltre, troviamo assai problematico il fatto che il corpo docente riproduca attivamente alcune delle dinamiche che abbiamo descritto e che risultano ancora più nocive in un ambiente ristretto qual è la normale. Prima fra tutte la spinta alla competitività, alla produttività, al publish or perish. Se l'obiettivo della scuola è abituarci quanto prima ad accettare acriticamente tale sistema, crediamo che questo sia un obiettivo perverso. La nostra selezione in base al merito e l'intreccio tra didattica e ricerca sono due tra i principi basilari del modello normale. Nei fatti, tuttavia, troppo spesso questi principi si traducono nella retorica del merito e del talento come alibi per generare una competizione malsana e per deresponsabilizzare il corpo docente. Per il semplice fatto di aver superato una selezione dovremmo essere in grado di navigare da soli attraverso il complesso sistema accademico. C'è un modo di dire molto popolare in queste aule e cioè che alla normale si viene buttati subito in acqua ed è così che pur di non affogare si impara a nuotare in fretta. E tuttavia oggi a diplomarsi con noi non ci sono tutte le persone con cui abbiamo condiviso il nostro percorso la loro assenza ci pesa ed è una sconfitta per la scuola. Anche tra i presenti una buona parte ha imparato a nuotare solo a prezzo di anni di malessere. Vorremmo dirlo qui con chiarezza non è grazie a ma nonostante questo principio che siamo arrivati qua. Il risultato è stato quello di convivere 5 anni con la sindrome dell'impostore senza sentirci mai all'altezza del posto che avevamo vinto. C'è chi ha adottato una performatività esasperata per compensare il proprio senso di nonadeguatezza sfruttando con spirito esibizionistico i seminari e gli interventi a lezione. C'è chi invece ha evitato di porre domande e chiedere spiegazioni per paura del giudizio altrui. Questa pressione sociale non è solo causa di un generico malessere è piuttosto una struttura sistemica grave che può avere conseguenze estreme sulla salute fisica e psicologica. solamente nel 2019 in seguito a un questionario redatto da una parte di noi la direzione ha disposto una riforma del supporto psicologico che introduce un'equip fissa per garantire continuità a chi sceglie di avvalersene. Riconosciamo che i miglioramenti siano stati significativi ma ci teniamo a sottolineare che non basta agire a valle di un problema sistemico. Il nostro malessere è intrinsecamente legato a un modello quello dell'accademia neoliberale che la normale non fa niente per contrastare ma tutto per corroborare. In questo contesto la retorica dell'eccellenza e una certa autoreferenzialità della normale nelle relazioni con il mondo esterno hanno ripercussioni serie anche sul piano della didattica. Ecco perché ci sembra prioritario spostare l'attenzione dall'eccellenza della selezione alla qualità della formazione. Al termine di ogni anno ciascun corso viene valutato attraverso questionari anonimi. Alcuni corsi ricevono valutazioni molto positive altri no. Tali valutazioni non costituiscono neri suggerimenti ma devono essere prese sul serio. Liquidarle con leggerezza denota mancanza di professionalità. vorremmo che i corsi fossero improntati a un vero spirito di cooperazione tra chi insegna e chi impara. All'uso non esclusivo della didattica frontale dovrebbe associarsi un ripensamento del momento del seminario in senso più formativo e meno performativo. Perché non considerare il seminario soprattutto ai primi anni come un'occasione prima di tutto metodologica per imparare a scrivere a parlare della propria ricerca non necessariamente inedita? Perché non incoraggiare in questa sede il lavoro a più mani a mostrare quanto le competenze individuali risultino potenziate in un progetto collettivo? E più avanti perché non coinvolgerci apertamente nella scelta dei temi del corso? Le dimensioni ridotte della normale e i finanziamenti di cui gode permetterebbero simili cambiamenti? In questa stessa ottica di cooperazione chiederemo alla scuola normale di collaborare maggiormente con l'Università di Pisa affinché i corsi offerti dalle due istituzioni possano comunicare e non restare come quasi sempre accade su piani separati ribadiamo quella che dovrebbe essere un'obvietà il ricorso a relatrici e relatori di altre istituzioni per il colloquio di passaggio d'anno e per l'esame di licenza è fonte di arricchimento e condizione irrinunciabile della libertà di ricerca proprio nella selezione del corpo docente vediamo un canale privilegiato di apertura e diversificazione in particolare un uso più lungimirante dei contratti di insegnamento offerti a docenti di istituzioni italiane ed estere permetterebbe ogni anno corsi sempre nuovi e una salutare variazione dell'offerta didattica oggi a leggere questo discorso siamo tre allieve è un gesto semplice in reazione all'individualismo promosso dall'accademia neoliberale ma è anche un gesto che vuole evidenziare un altro enorme problema sistemico vorremmo che la scuola normale in quanto istituzione corpo docente comunità prestasse più attenzione alla disparità tra uomini e donne nell'accesso alla carriera universitaria stando agli ultimi dati borse di dottorato e assegni di ricerca sono più o meno equamente distribuiti tra uomini e donne così non è per le cattedre di seconda fascia ricoperte da donne nel 39% dei casi e di prima fascia nel 25% dei casi per quanto riguarda la scuola su 13 membri del senato accademico solo 3 sono donne di 10 professori ordinari nella classe di lettere 9 sono uomini oggi su 24 diplomati siamo 8 donne il divario di genere molto più marcato nelle università del sud è un risultato che nasce da evidenti ragioni storiche ma contro il quale non si combatte ancora abbastanza contro il quale i docenti della normale non combattono abbastanza i ritmi della ricerca odierna quelli per i quali il precariato si vince solo dopo i 40 anni di età e avendo dedicato i precedenti eventi a nient'altro che alle pubblicazioni sono incompatibili con la volontà per esempio di avere una famiglia e sono incompatibili con il fatto che il lavoro di cura nel nostro paese ricade quasi interamente sulle donne per questo motivo vi invitiamo a interrogarvi quando alle ammissioni vi trovate a far entrare numeri sproporzionati tra ragazzi e ragazze rifletterci più a lungo è un dovere data la posizione che ricoprite vi invitiamo anche a prestare attenzione sempre durante le lezioni nei corridoi a ricevimento quando di fronte a voi avete una donna vi chiediamo di pensare due volte quando una ricercatrice è incinta quando una professoressa è madre o quando un'allieva rimane ferita davanti a un commento che a voi è perso innocente si tratta magari di una reazione a un cliché da anni ripetuto introiettato e ritenuto innocuo ma che tale non è perché se è vero che in questa stanza siamo privilegiati allora dovremmo essere noi per primi a sfruttare questo privilegio per informarci per formarci per sensibilizzarci e soprattutto per cambiare le cose è perciò dovere della scuola come istituzione accompagnare questa riflessione e organizzare specifici corsi di formazione rivolti a tutti i livelli della propria comunità non ultimo il corpo docente sappiamo che le nostre sono parole dure ma a dare a questo momento di celebrazione la giusta serietà significa anche e soprattutto esercitare con consapevolezza lo spirito di analisi e critica che abbiamo imparato in queste aule ci sembra così di restituire agli anni passati alla scuola tutta la complessità che la nostra esperienza di allievi e allievi merita dopo anni di confronto è significativo che nessuno di noi si riconosca nella retorica dell'eccellenza su cui la scuola poggia e questo non solo perché la consideriamo parte integrante di un modello sistemico e locale insostenibile ma anche e soprattutto perché la troviamo incompatibile con l'incompletezza e la fallibilità di ognuno di noi grazie lei non le posso dare la mano bell'antuono maria chiara bell'antuono bellino borgese mattia bellino borgese non è presente paolo bozzi alessandro brizzi giovanni colpani leonardo de santis michele gammella gritti andrea umberto gritti non c'è virginia grossi daniele iozzia niccolò izzi magnaghi magnaghi virginia magnaghi lorenzo lorenzo maselli francesco molinarolo francesco molinarolo paravano paravano cosimo paravano rossetto paolo rossetto delega delega irene saggese applausi greater ragazzi copia qualità spacciante tioli eleonora tioli giovanni tonolo lara trivellizzi giovanni trovato vanni leoni da vanni diletta vignola zucchi roberto zucchi grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se potete già da ora accendere la videocamera, poi vi mettiamo noi in evidenza quando è il vostro turno. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno, cari allievi e cari allievi. È davvero un piacere essere qui a parlarvi a nome mio personale, ma soprattutto a nome della classe di scienze, di cui vi porto il saluto, il saluto di tutti i miei colleghi, di tutti i docenti. È davvero un'occasione molto importante, come ricordava il direttore, per la scuola. Ma penso che anche personalmente, ognuno di voi, ma anche noi ve lo assicuro, viviamo questo momento in un modo molto partecipato e riteniamo l'importanza di questo momento come molto alta. Ringrazio soprattutto il fatto, ed è un piacere farlo, che questa cerimonia possa avvenire così, in presenza, come non eravamo più abituati a fare. E a questo ovviamente ci sono delle persone che hanno lavorato molto duro per questo potesse avvenire. In primis il direttore, il vice direttore, il gruppo di emergenza, il servizio, relazioni esterne. Sono tutte persone che hanno fatto quasi qualcosa di importante per riuscire a far sì che questa cerimonia potesse avere luogo e che potessero soltanto ospitare voi, ma anche i vostri genitori, accompagnatori, le famiglie, gli amici che sono con noi e che colgo l'occasione anche per salutare e per ringraziare di aver voluto condividere con noi questo momento. Emozione, punto. Questa crede sia la parola che tutti condividiamo oggi e anch'io sono emozionato dall'essere qui a condividere questo momento importante con voi. e immagino cosa possiate sentire, immagino che in questi pochi minuti, poche ore che passiamo insieme oggi vi passino in mente molte delle immagini che avete vissuto in questi cinque anni alla scuola, qualche cosa che è andato bene, qualche cosa che è andato male, qualcosa che avete imparato, forse purtroppo qualcosa anche che vorreste dimenticare. Tutto fa parte della vita, fa parte di quello che giornalmente siamo abituati ad incamerare per tentare di diventare persone migliori. Detto questo, penso che si pensa spesso che la difficoltà della scuola normale sia riuscire ad entrarci. È sicuramente vero. Non sto qui a citare il numero esiguo di persone, cioè voi, che sono riusciti a superare questa prova a scapito di altre che evidentemente non avevano le qualità al livello delle vostre per poter accedere a questa possibilità che ovviamente è limitata per la storia stessa che la normale ha. Questa è anche ovviamente parte della sua forza. Detto questo però, la vera difficoltà è appunto vivere questi cinque anni nel modo migliore possibile. Ho in mente quante notti insonni, quanti giorni di fatica, quante forse anche difficoltà e momenti di scoramento avete dovuto superare. Questo però sono certo che vi renderà persone più forti. Più forti anche come tra poco andrete in un mondo esterno. Non che prima non aveste vissuto nel mondo ovviamente, ma adesso dietro di voi la scuola si defilerà un po'. Sarà sempre presente, ma sarà un po' più defilata. Andrete quindi nel mondo dove ci saranno molte cose, tra cui anche quella competizione che ho sentito nominare, quella ricerca dell'eccellenza che ho sentito nominare, quelle elite che forse chiuderanno certe strade ad alcuni, le apriranno ad altri. Dobbiamo accettare tutto questo? Sì, con dei paletti, con delle condizioni. Per questo, per cercare di chiarire questo concetto, voglio fare un esempio molto concreto, perché è l'ultimo che è successo e che mi è venuto in mente proprio stamattina venendo qui. Non pensavo di darci così risalto, ma lo uso e sto parlando a braccio anche a seguito degli stimoli che sono giunti dalle interessanti e anche forti considerazioni dei vostri colleghi di lettere. Ho voluto appunto, voglio rimarcare questo esempio che, come dicevo, mi è venuto in mente stamani. Ieri, e non faccio nomi perché voglio rimanere molto generale, ieri abbiamo saputo una notizia molto bella per la scuola, o perlomeno quando l'ho ricevuta, sono stato estremamente contento di saperla. Vale a dire che un nostro allievo, insieme a un team di altri suoi colleghi che ha messo insieme, ha partecipato a un progetto per idee, per fondare una start-up, essendo ancora allievo della scuola normale. E questo progetto è stato valutato da, appunto, purtroppo, quello che vengono denominate eccellenti persone, c'era in questa giuria persone, che non voglio nominare, ma vi assicuro che sono persone di cui tutti abbiamo stima e grande ammirazione. Una, ad esempio, proprio perché sono un fisico, concedetemi questa libertà, era Fabiola Giannotti, una donna, presidente, direttrice del SER di Ginevra. Bene, questo nostro allievo, insieme al suo team, è stato selezionato dalla Fondazione Agnelli per il progetto di start-up che aveva presentato. È un fisico, quindi, però il progetto era una start-up innovativa che si occupa di abbattere l'uso degli antibiotici e degli alimenti animali. Una cosa fondamentale per l'umanità, direi. Cosa si può pensare più grande che preservare la salute umana e anche il benessere degli animali. Quindi, per fare questo progetto, avrò la possibilità di essere presentato di fronte a Elon Musk a settembre per eventuali sviluppi. Allora, adesso non entriamo nel merito dei giudizi su chi sia Elon Musk o altre considerazioni di questo, non mi interessano. Qui voglio soltanto far notare che questo processo è stato frutto di una competizione. Questi vostri colleghi si sono presentati, hanno accettato di competere, hanno fatto la competizione contro degli altri colleghi, parimenti giovani, e hanno vinto. Quindi sono stati dichiarati eccellenti sulla base di questa competizione. Ora, competizione non è una parola che a me personalmente fa paura, anzi. Penso che la competizione sia un processo win-win, in cui può vincere chi vince, ma può vincere chi perde, perché impara qualcosa, magari impara qualcosa a chi ha vinto. E soprattutto, la prossima volta può sperare di vincere lui. Ora, quello che importa, secondo me, è che la competizione sia fair, vale a dire che partiamo tutti dalle stesse condizioni. Se questo è il nostro punto, dobbiamo abolire la competizione, dobbiamo abolire le condizioni che non ci fanno partire dalla stessa linea di partenza. Se noi facciamo le competizioni, e lo sport ci insegna questo, che partano da zero a zero, per tutti, beh, allora la competizione non può che avere un impatto positivo. E chi vince la competizione viene dichiarato eccellente. Ma raggiungere l'eccellenza non significa solo alzare la coppa, ma significa, più che altro, avere il rispetto della propria comunità. La stima, perché di una persona, e non a caso, quando vi parlavo della giuria prima ho parlato della stima, che io personalmente, ma moltissimi colleghi, cioè la comunità scientifica, ad esempio, ripone nella professoressa Giannotti. Quindi, questa è l'eccellenza, è l'eccellenza perché siamo stimati dalle persone con cui lavoriamo, e anche, addirittura, poi, se uno è super eccellente, anche da tutta la popolazione a livello mondiale. No, questa è un po' l'eccellenza. Ma notate che questa eccellenza non è data una volta per tutti, non è una medaglia che potete appendere sopra il vostro letto, e qualcosa che oggi c'è, domani potrebbe non esserci. E quindi la scuola combatte ogni giorno questa battaglia e combattendo questa battaglia si trova a competere con istituzioni che sono più grandi, sono più organizzate, forse hanno più fondi, vivono in ecosistemi politici, quindi in nazioni dove la ricerca può essere organizzata meglio, tutto. Grazie. 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 ...decide o comunque cerca di valorizzare quale sia il criterio che definisce il merito e addirittura l'eccellenza. Non dobbiamo avere paura di questo, non credo che sia un concetto che debba avere una connotazione politica in nessun senso. Detto questo, vado a terminare e soprattutto ritornando a quell'atmosfera di festa da cui sono partito, sono davvero orgoglioso che siate stati, che avrete potuto compiere questo piccolo percorso con noi, della vostra vita che spero sia importante e che porterete sempre con voi. D'altra parte la scuola sarà sempre la vostra casa e ci auguriamo di potervi rivedere, soprattutto anche supportare nei modi in cui sarà possibile. Speriamo di rivedervi qui, ma questo è un augurio che non necessariamente è egoistico come potrebbe sembrare, vi auguriamo che scegliate la scuola perché avete deciso che quello è il posto dove vorrete fare la vostra ricerca, il vostro lavoro in futuro. Quindi concludo qui e vi auguro buona fortuna e vi ricordo che la cosa più importante è sempre quella che deve ancora venire. Grazie a tutti. Ecco adesso in rappresentanza degli allievi e delle allievi della classe di scienze interviene Alessia De Masi. Buongiorno a tutti, cari professori, cari ex allievi e allievi della scuola normale. Siamo lieti di essere qui oggi e poter partecipare a questa cerimonia, finalmente di persona e non attraverso lo schermo o quasi. Sembra ieri il giorno in cui siamo usciti da questa scuola, felici e piedi d'orgoglio per il successo appena compiuto e proiettati verso il resto della nostra vita. Questa scuola ha avuto un ruolo importante nella nostra formazione. Qui abbiamo trascorso anni decisivi della nostra vita, che oggi ci definiscono personalmente e professionalmente. E nonostante le nostre esperienze qui dentro siano state delle più disparate e disperate, vorrei finalmente dirvi, cari compagni, congratulazioni, ce l'abbiamo fatta. Quanti di voi, come me, si ricordano i primissimi giorni alla normale? Ottobre 2014. Noi, matricolanziose e spaesate, seduti in Aula Bianchi ad ascoltare il discorso di benvenuto del direttore. Ogni studente che si trova qui oggi ha eliminato altri 20 possibili candidati agli esami d'ammissione. Che responsabilità! Siamo stati bravi a meritarci questo posto, ma ora dobbiamo meritarci di rimanere. Siamo stati scelti tra centinaia di candidati, ammessi a questa ristretta cerchia di eccellenze e abbiamo dovuto dimostrare ogni giorno di essere stati la scelta giusta. La scuola esige tanto dei propri studenti. In questi cinque anni abbiamo dedicato la maggior parte delle nostre energie allo studio, consapevoli di dover dare sempre il massimo. Ma allo stesso tempo la scuola dà tanto. La vita dello studente normalista è certamente difficile per alcuni aspetti, ma è estremamente ricca. Un ambiente stimolante e di supporto alla nostra crescita accademica e l'accesso privilegiato a tutto ciò che può servirci durante questo percorso. Non possiamo che essere grati per tutte le opportunità che la scuola ci ha dato durante gli studi e per le porte che ci ha aperto una volta finiti gli studi. Abbiamo avuto l'immensa fortuna di apprendere da professori stimati, in classi con un numero ridotto di studenti e con un approccio più ravvicinato e interattivo di quello concesso di norma a uno studente universitario. Tra i valori cardine di questa scuola ci sono proprio la condivisione e il confronto, con i professori ma soprattutto con gli altri studenti. Abbiamo avuto la possibilità di vivere cinque anni nei collegi, esperienza che ci ha unito e fatto sentire parte di una comunità. Durante i pasti insieme a mensa o nella pausa a caffè tra una sessione di studio e l'altra, non mancavano mai le discussioni con i compagni dello stesso o di altri corsi, nell'aiuto e consigli degli studenti più grandi. In una scuola così selettiva è sempre possibile sviluppare una forte competizione fra gli studenti e invece, con l'esempio di chi ci ha preceduti, siamo riusciti a creare un ambiente costruttivo in cui si vive, si mangia, si studia e si superano gli esami insieme. La rete di supporto che si è creata è stata fondamentale per completare questo percorso e ci unisce ancora oggi. Benché siamo ormai ex studenti della normale, ci sentiamo ancora parte di questa comunità, seme il normalista, sempre normalista. Per questo motivo, da studenti, abbiamo sempre cercato di migliorare l'esperienza nostra e dei nostri compagni all'interno della scuola. Il nostro percorso ci ha spesso insegnato a non accontentarci del bene, ma di continuare a cercare il meglio. Vorremmo dunque applicare questo spirito di ricerca, di un costante miglioramento, anche in queste riflessioni finali. Tirando le somme sulla nostra esperienza in normale, vorremmo porre la vostra attenzione su alcune criticità che sono emerse dalla nostra analisi, nella speranza che questo feedback sia utile alla scuola e ai suoi futuri studenti. Abbiamo vissuto questi anni sia come studenti della scuola normale che come studenti dell'Università di Pisa. In questa dualità, è importante ricordare quanto la scuola sia strettamente legata all'Università per la formazione dei propri studenti e che l'eccellenza di quest'ultimi è costruita soprattutto dalla collaborazione delle due. Tra le problematiche emerse, vorremmo evidenziare una duplice difficoltà nel coordinarsi con l'Università di Pisa, sia nei contenuti dei corsi che nell'organizzazione degli orari. È talvolta capitato che i programmi dei corsi interni si sovrapponessero in larga parte a corsi universitari curricolari o che al contrario risultassero alquanto distanti da quanto tipicamente insegnato all'Università. Questo potrebbe essere facilmente migliorato tenendo conto nella programmazione didattica interna delle conoscenze che gli studenti hanno acquisito o ancora non hanno acquisito all'Università e regolando i prerequisiti dei corsi di conseguenza. Un altro problema è stato in determinate occasioni che alcuni di noi hanno dovuto rinunciare a frequentare corsi universitari perché si sovrapponevano temporalmente con quelli interni. Noi comprendiamo le difficoltà nel coordinarsi con un'altra istituzione ma una rinnovata collaborazione fra Normale e Università di Pisa sarebbe un prezioso miglioramento per questo percorso unico costruito dalle due istituzioni. Ci aspichiamo che in futuro la scuola possa fare tesoro dello sguardo privilegiato dei propri studenti ascoltando e ricercando i loro suggerimenti per rafforzare ulteriormente l'offerta didattica. Un altro punto su cui porre maggiore attenzione in futuro a nostro avviso è la gestione delle comunicazioni interne soprattutto per quanto riguarda gli obblighi didattici. Avremmo beneficiato di una comunicazione più chiara riguardo gli adempimenti agli obblighi interni che talvolta non ci sono risultati chiari essendo affidati più al passaparola informale tra studenti che alla comunicazione ufficiale della scuola. Per quanto riguarda la didattica dei corsi interni invece confrontando le nostre esperienze nei vari anni riteniamo che alcuni corsi riflettono talvolta un'impostazione non ottimale per la classe a cui sono rivolti soprattutto nel difficile equilibrio tra teoria e applicazioni. Il confronto tra le varie classi con argomenti che spaziano anche in materie diverse da quella di indirizzo può essere un valore ma non deve diventare un limite qualora alcuni argomenti importanti in linea teorica risultino poi all'atattico poco appropriati per una determinata classe. Alla luce di questo anche in base a quanto emerge nei questionari di ridimenti dei corsi la didattica alla scuola potrebbe ulteriormente essere arricchita da una leggera diversificazione in cui c'è una classe si sente al centro dei corsi che segue e possa completare e valorizzare il proprio percorso universitario nel rispetto delle sue specifiche esigenze. Oltre alla didattica ordinaria ci teniamo a ricordare un altro aspetto nel quale la scuola raggiunge livelli di eccellenza ovvero il servizio di mobility e internazionalizzazione che è stato molto apprezzato da tutti i nostri studenti. La normale offre molti vostri studio per svolgere periodi all'estero che adecchiscono il curriculum degli studenti con testi e stilocini in istituti rinomati a livello globale. Inoltre queste borse sono spesso completate da fondi aggiuntivi che rendono queste esperienze totale Tuttavia abbiamo notato una decisa differenza riguardo alla possibilità di sfruttare questo servizio tra triennio e biegno. Durante la triennale gli obblighi interni rendono difficile svolgere periodi all'estero per noi studenti della classe di scienze mentre durante la magistrale la didattica è più flessibile e facilita queste esperienze. Se possibile speriamo che la scuola trovi in modo in futuro di agevolare anche gli studenti dei primi anni nello svolgere periodi di studi all'estero. Per concludere vorremmo ringraziarvi ancora una volta ringraziare in primo luogo i professori sulle cui spalle sta la grande responsabilità di una didattica di così alto livello sempre condotta con grande umanità. In secondo luogo vogliamo ringraziare la scuola nel suo insieme a tutte le persone che la compongono e a cui ci siamo spesso affezionati vogliamo dire grazie a tutti quei luoghi che così tanto hanno significato in questi cinque anni ovvero esami condivisione ma anche casa e famiglia grazie. Ognuno di noi sta proseguendo nel suo percorso ma il fatto che questo percorso sia passato per cinque anni attraverso la scuola ha determinato in modo decisivo il suo sviluppo. Il bagaglio culturale che ci portiamo dietro non è fatto solo dalla conoscenza che abbiamo acquisito ma anche e soprattutto dall'esperienza di vivere in questa comunità in cui ci siamo sentiti accolti e in cui siamo maturati. La scuola ha rappresentato per ciascuno di noi un grandissimo arricchimento professionale e umano. Siamo profondamente grati per tutto quello che la scuola ci ha dato e siamo orgogliosi di aver fatto parte di una comunità così straordinaria. Grazie. Possiamo procedere ora con la consegna dei diplomi. Clara Antonucci Dario Ascari Dario Balboni Alberto Bordin Alessandro Candido Emanuele Cannavo Luca Capizzi Andrea Clini Andrea Clini Grazie Grazie Marco Costa Alessia De Masi Federico Franceschini Francesco Hawk Giovanni Italiano Grazie Scusate ho sbagliato ho saltato un nome chiedo scusa è Federico Begliardo Piero Lafiosca Giulia Logerfo Andrea Luzio Allora adesso abbiamo Giuseppe Madaro che credo sia collegato Allora magari lo lasciamo in fondo se riusciamo a ricollegarci Passiamo a Alessandro Mancari No è assente Allora Matteo Migliorini Umberto Pappalettera Nicola Picenni Nicola Picenni Giacomo Ranieri Roberto Ribatti Stefano Sellitto Stefano Sellitto Martino Ugolini Martino Ugolini Allora Allora adesso due persone collegate due allievi collegati un'allieva Martina Varisco eccola ti facciamo la foto online con il tuo diploma congratulazioni grazie e allora appunto riproviamo con Giuseppe Madaro se si è collegato vogliamo aspettare qualche secondo per vedere se riusciamo a io ci sono ma non so se riuscite a vedermi eh già ci fa sapere ci fa piacere sapere che comunque sei lì e ci sei tu ci senti vero? sì sì vi sento bene sì bene allora direi che procediamo allora con questo diploma virtuale appare ora lo facciamo apparire anche sullo sullo schermo così tutti i tuoi compagni noi lo possiamo vedere e allora congratulazioni Giuseppe un applauso bene abbiamo terminato visto che siamo anche un po' in anticipo sui tempi mi consentite un po' una breve replica ai vari messaggi ai vari discorsi che si sono susseguiti da parte degli allievi per prima cosa non posso non notare una notevole differenza stilistica di tono tra quello che ho sentito da scienze e quello che ho sentito da lettere quindi magari vorrei replicare sui tanti temi che sono stati sollevati che tra l'altro sono oggetto di approfondimento quindi vi invito a farmi avere il testo vi invito sia scienze che lettere a farmi avere il testo degli interventi mi limito a toccare tre temi magari che sono stati evocati diciamo il primo è questa retorica dell'eccellenza i poli dell'eccellenza e così via la scuola come come si dice torre d'avorio questo che era emerso anche quando ci fu nella creazione della scuola superiore a Napoli e così via allora intanto cioè io ritengo che questa sia una falsa contrapposizione una contrapposizione solo di tipo retorico tra il finanziamento al sistema universitario nazionale e sistema alle scuole superiori lo è per prima cosa se guardiamo alle cifre la scuola normale è finanziata per circa 40 milioni di euro l'anno tutto il costo del sistema universitario nazionale è di 7 miliardi quindi contrapporre diciamo le due voci di spesa diciamo mettere insieme una questione nazionale con una questione di finanziamento diciamo delle di poli di eccellenza non mi sembra corretto non mi sembra corretto lo sarebbe forse se come dire a livello governativo addirittura qualcuno alla scuola avesse usato come dire il definanziamento del sistema universitario scusate avesse usato il finanziamento delle scuole superiori come un pretesto per il definanziamento del sistema universitario o per dire guardate noi definanziamo il sistema universitario ma in compenso finanziamo bene le scuole superiori questo non credo sia mai successo quindi questa diciamo secondo me è veramente una falsa contrapposizione che vedo emergere tra l'altro in tanti discorsi quando si parla si mischiano come dire questioni nazionali con questioni locali il calo del corpo docente è enorme a livello nazionale a livello della scuola superiore il corpo docente è aumentato è aumentato anche in maniera significativa quindi stiamo un po' attenti a distinguere diciamo questi due livelli fermo restando che va bene accetto la critica forse il corpo docente può accettare la critica di non essere intervenuto abbastanza magari a sufficienza a livello del discorso di livello nazionale ma ripeto mai mai usato questo come alibi o per altre ragioni e forse si sopravvalutano in questo momento storico le capacità di intervento che abbiamo a livello della governanza a livello nazionale vi assicuro che io personalmente faccio enormi sforzi in questo senso però naturalmente le dinamiche sono molto complesse questo per quel che riguarda le scuole superiori il finanziamento e così via è stato toccato anche il tema dei dipartimenti di eccellenza questo devo dire mi tocca anche un po' personalmente perché prima di diventare direttore io sono stato quello che ha proposto ha creato come dire alla scuola il dipartimento di eccellenza di scienze che poi è stato finanziato allora questo è stato un bando a livello nazionale non è stato un bando per le scuole superiori al quale noi legittimamente abbiamo deciso di competere non so se la proposta era di non competere assolutamente di tirarci indietro non so qual è diciamo francamente non capisco vorrei sottolineare che grazie a questi finanziamenti ne è venuto una scienza e una lettere che abbiamo potuto acquistare importanti infrastrutture di calcolo finanziare nuove chiamate e abbiamo appunto appena deliberato poche e poche settimane fa la chiamata della professoressa Fosca Giannotti in informatica abbiamo un nuovo filone di ricerca ora parlo di scienze perché ovviamente conosco meglio questo abbiamo un nuovo filone di ricerca in bioinformatica abbiamo un corso di dottorato in scienze computazionali tutte queste cose non sarebbero state possibili senza il finanziamento del dipartimento di eccellenza abbiamo grazie a questi finanziamenti e più in generale grazie a tutti i finanziamenti che ci arrivano sulla ricerca possibilità aggiuntive di finanziare borse viaggi fatemi dire anche incentivi al personale visto che è stato evocato il tema del personale a livello di contratto nazionale noi abbiamo enormi limiti nell'erogare gli incentivi gli unici margini di manovra che noi abbiamo vengono appunto dal finanziamento di progetti io sono il primo a dire che questo non va portato in una logica esasperata vi assicuro che peraltro se ne è parlato in conferenza di Ateneo in cui abbiamo confrontato i dati della scuola normale cioè non li abbiamo confrontati ci abbiamo confrontato certi dati all'interno della scuola normale ma io in mente avevo il confronto con altre istituzioni anche a noi molto similari per dimensioni e la nostra performance non è non è eccezionale in questo senso quindi diciamo non siamo certo un'istituzione che sta spingendo in maniera esasperata sulla competizione a scapito magari della qualità della ricerca magari puntando su temi di moda ora non so qual è un po' la critica che si possa fare quindi tenete presente io vorrei che tutti tenessimo presente questi questi fatti che la scuola non può essere più finanziata una parte consistente del finanziamento della scuola viene dalla cosiddetta quota premiale la quota premiale ci viene assegnata in base ai risultati della nostra performance come giusto che sia cioè noi abbiamo un dovere di dimostrare ai nostri finanziatori quanto valiamo è molto semplice 30 anni fa non era così adesso è così ma è così in tutto il mondo ora dire che noi ci ribelliamo questa logica e che dobbiamo essere finanziati perché ci chiamiamo scuola normale e non regge semplicemente non regge allora questo per quel che riguarda il primo aspetto dunque poi avevo detto ah rapporto con l'università di Pisa io non posso non ricordare mi spiace ricordare questi fatti che quando cioè distinguiamo intanto il livello istituzionale dal livello più fine a livello istituzionale quando io ho assunto il mandato di direttore fatemelo dire con un eufemismo non c'erano buoni rapporti con l'università di Pisa a livello istituzionale nei primissimi mesi del mio mandato grazie anche al lavoro del vice direttore a Piazza siamo riusciti a concludere importanti accordi che hanno risolto molti problemi relativi alla mobilità degli studenti alla didattica e così via in questo momento i rapporti a livello istituzionale con l'università di Pisa sono ottimi ci sentiamo quotidianamente con Mancarella poi con Nuti con Sant'Anna non ne parliamo allora se ci sono dei problemi affrontiamoli e so che ovviamente in tante aree la collaborazione è ottima parlo della matematica ma ci sono anche tanti altri settori in cui la collaborazione va benissimo magari è migliorabile ma certamente va molto bene se ci sono dei problemi come quelli evidenziati dagli allievi di lettere guardiamoli però guardiamoli nel fino non guardiamoli così a livello a un livello macro che non consente poi di determinare nessun intervento concreto va bene dunque ultimo aspetto è stata evocata questa immagine di buttare il bambino nell'acqua perché impari a nuotare anche io la trovo un'immagine orrenda e qui da capo vorrei evocare un po' come dire la mia esperienza di docente io ho visto allievi ovviamente velocissimi ed erano velocissimi sin dall'inizio non so Alessio Figalli tanto per fare dei nomi Camillo Delellis che ora a Princeton ma ho visto allievi che apparentemente all'inizio per temperamento per insicurezza andavano più lentamente sono stati incoraggiati ugualmente sono arrivati magari agli stessi traguardi finali quindi questo certamente deve essere un principio che noi dobbiamo rispettare all'interno della scuola di non esasperare questo aspetto però da capo cerchiamo di rendere questa cosa un po' più concreta e di uscire da immagini forse un po' terrorizzanti che però non ci consentono poi di capire concretamente come possiamo intervenire bene allora direi questi sono i tre temi che volevo toccare che colpivano di più delle cose che sono state dette direi abbiamo ancora un po' di tempo ma forse possiamo anticipare Elisa possiamo anticipare bene allora vi invito tutti ora Scienza e Lettere ad andare nella chiostra dove avremo un brindisi e poi non assembratevi e non disperdetevi perché cercheremo di fare una foto poi tutti insieme va bene grazie e that's it grazie 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 grazie